Anche quest'anno è passato, e come ogni anno con FIFA tutti ne abbiamo abusato. Ci ha fatto sognare e rosicare. Questo tipo di gol non potrà mai mancare. È sempre quello più ricercato, e grazie ad un giocatore buggato, il passaggio al centro verrà realizzato. Può generare grosse liti tra i player più incalliti. In ogni partita è sempre presente. Utilizzarlo è un desiderio impellente. Può far sì che tu vinca o perda. Sto parlando del gol della merda!